Dopo tanto parlarne, dopo tante proposte, dopo tanti sogni, ecco che finalmente la Moviola in campo è diventata realtà. Era solo un esperimento, ma quella di ieri sera sarà sicuramente una serata storica, perché ieri sera, in occasione di Italia-Francia, la prima amichevole dell'Italia alla guida di Ventura, il risultato non conta nulla naturalmente, dicevamo che quella di ieri sera è stata la prima serata della Moviola in campo. Ora si dice che per i mondiali in Russia, il prossimo mondiale, la Moviola ci sarà in tutte le partite, ma l'importante è questo primo evento che ha aperto il calcio alla tecnologia. Finalmente si proverà a evitare gli errori macroscopici che possono cambiare un risultato, così nessuno avrà più scuse. Certo, mancherà ovviamente, come al solito, la diatriba, mancherà il grande momento che giornalisti e commentatori vivono quando c'è polemica, però sarà sicuramente un calcio che avrà molto, ma molto meno errori.